Musica Presidente, primo incontro regionale dei giovani Confindustria di Lombardia, cosa vuol dire essere un giovane imprenditore oggi? Siamo molto felici di ufficializzare e dar vita a questo primo evento. Proprio perché l'abbiamo voluto per instaurare un rapporto con le istituzioni e far passare il messaggio che oggi i giovani imprenditori sono la classe dirigente del presente e non tanto del futuro e siamo a disposizione di tutta l'intera comunità e quindi delle istituzioni per mettere a fattore comune quelle che sono le nostre competenze, la nostra visione. Quindi cosa vuol dire essere un giovane imprenditore oggi? Avere questo senso di responsabilità nei confronti della società per riuscire proprio a dar voce a quelle che sono le nostre competenze. Dopo la pandemia e la guerra, quindi una serie di difficoltà, quanto coraggio ci vuole a fare l'imprenditore oggi? Ma ci vuole molto coraggio, ma ripeto noi siamo abituati perché devo dire che il comparto industriale Lombardo è una manifattura in primis nonostante le difficoltà che stiamo attraversando tra il costo dell'energia praticamente impensabile mesi fa fino proprio alla difficoltà di riferire le materie prime. Il nostro compito è quello di tenere duro e devo dire che l'imprenditore Lombardo sta reagendo molto bene perché siamo comunque la manifattura più importante d'Europa. È chiaro che ci vuole coraggio, ci vuole visione, ma ci vuole soprattutto un ecosistema che permetta a noi di fare l'imprenditore. Quindi quello che chiediamo è che queste riforme di cui se ne parla, di cui Confindustria ne parla, fin da quando abbiamo iniziato a parlare di PNR, vengono finalmente attuate queste riforme strutturali che possono servire non solo a mettere a terra il PNR ma a rimanere competitivi nei confronti dei nostri competenze internazionali. Concludiamo con un consiglio ai giovani imprenditori che vogliono intraprendere questo percorso? Di avere tanta passione, coraggio e forza perché soprattutto in questa regione le cose si possono fare e il mondo di Confindustria è pronto ad accogliervi perché mai come in questo momento abbiamo bisogno di dare forza e manforte a quelle che sono le nuove aziende che hanno competenze in ambito tecnologico, di sostenibilità, di visione e di inclusione sociale. Quindi il gruppo giovani di Confindustria Lombardia è veramente inclusivo in questo e quindi quello che gli diamo è avete coraggio ma se vi appoggiate comunque a noi siamo qua a darvi un grande maforte, un grande contributo per svilupparvi al meglio.